Vi parlerò di un problema molto complesso. Oggi infatti sentiamo continuamente parlare del problema delle api e tutti quanti fanno a gara per salvare le api. In primo luogo quello che bisogna chiarire per parlare di un problema così complesso è cosa intendiamo per api e se vogliamo salvare qualcuno o qualcosa dobbiamo capire in primo luogo chi è. Allora quando noi parliamo di api spesso incorriamo in un errore fatale cioè quello di rivolgerci a una delle 25.000 specie di api che noi conosciamo oggi al mondo e cioè l'ape mellifera, l'ape cosiddetta occidentale, l'ape gestita dagli apicoltori attraverso l'apicoltura. ma noi abbiamo api solitarie, api gregarie, api sociali con società temporanee come quello dei bombi e poi api sociali con società permanenti come l'ape mellifera e altre api quelle dette prive di pungiglione che vivono negli ambienti tropicali. Un altro aspetto poi che viene spesso confuso è quello delle api e dell'apicoltura. Salvare le api significa salvare l'apicoltura? Non sempre le due cose coincidono. Allora per prima cosa cerchiamo di capire cosa sono le api. Le api sono degli imenotteri cioè insetti con due paia di ali membranose che però hanno una specializzazione. Vengono dette apoidei antofili perché sono strettamente e assolutamente legati ai fiori. Il loro percorso evolutivo comincia circa 100 milioni di anni fa, poco dopo la comparsa delle magnoliofite, che sono piante che hanno avuto dei vantaggi fisiologici dall'evoluzione per cui hanno scombinato le carte dei panorami vegetali. Fino ad allora avevamo delle masse enormi di piante, quelle che oggi ci fanno soffrire perché i depositi di petrolio e di gas derivano da queste piante, però queste piante erano tanti individui e poche specie e allora la riproduzione era basata sul trasporto del polline o delle cellule germinali mediato dall'acqua o dal vento. Quando arrivano le magnoliofite queste si dividono in tantissime specie e allora in ogni ambiente le specie sono così tante che una riproduzione casuale non funziona più. Allora con i meccanismi dell'evoluzione, tentativi su lunghi tempi, il fenomeno, il processo della impollinazione zoofila, cioè degli animali vanno su un fiore, vi trovano qualcosa di interessante e poi vanno su un altro fiore della stessa specie perché nel frattempo le piante per fidelizzare questi organismi hanno inventato la pubblicità. Il colore, la forma e il profumo dei fiori sono la pubblicità, la reclam e il nettare è l'offerta speciale, sono i giga, i messaggi limitati che dir si voglia. Le api non discendono da questi più antichi impollinatori ma discendono da vespe che andavano a cacciare questi impollinatori. Solo che l'evoluzione è bizzarra e ha fornito alcune specie di questi imenotteri di una peluria particolare, li ha trasformati in degli spolverini volanti. Questa peluria piumata fa sì che con l'attrito dell'aria, gli urti del polviscolo atmosferico, l'energia impressa dal volo, questi insetti si caricano di una carica elettrostatica positiva. I fiori che hanno la presa a terra, cioè la radice, hanno una carica elettrostatica negativa. Allora volando sui fiori queste api si imbrattano di polline e quindi cominciano a ripulirsi e l'evoluzione gli dà degli strumenti per poi accumulare il poline. Morale della favola, questi insetti sono diventati non solo tra i più diffusi e importanti impollinatori, noi conosciamo impollinatori le farfalle, i coleoteri, molte mosche eccetera, ma questi altri insetti terminano il loro lavoro di impollinatori sui fiori. È l'insetto adulto che va alla ricerca o di polline o di nettere per avere l'energia per accoppiarsi e poi deporre le uova su una pianta di cavolo, su una carota, su del legno marcescente. Invece le api, proprio per questa grande capacità di raccogliere il polline, hanno basato tutta la loro alimentazione sul polline e anche sul nettere dal punto di vista energetico. Per cui a me piace usare questa immagine un po' fanciullesca, io dico che le api sono fiori con le ali e i fiori sono delle api con le radici, perché questi organismi sono estremamente legati tra di loro. Ora veniamo al secondo problema, oggi si parla sempre di catastrofi, l'abbiamo sentito anche in altre presentazioni oggi, quindi per dire che c'è un problema deve essere o la vespa killer o la strage o qualcosa si sta estinguendo. Allora io faccio sempre il riferimento a un essere umano, no? Sì, la morte è un problema, ma anche se ti amputano un braccio, una gamba, due gambi, tutte diciamo così le escrescenze, non è una bella cosa. Allora non è solo l'estinzione il problema, è anche la riduzione del numero di specie, del numero di individui. E poi quali api si stanno estinguendo? E dove si stanno estinguendo? Allora noi sappiamo che molte delle 25.000 specie di api sono minacciate di estinzione perché i loro habitat vengono distrutti, perché i loro siti di nidificazione vengono distrutti. Ci sono poi delle altre specie che vedono ridotta la loro popolazione, che vedono disgiunti, divisi i loro areali e quindi dei problemi di diversità e genetica eccetera. Qualcuno dice che l'ape mellifera non è certo un organismo che si sta estinguendo perché il numero di alveari nel mondo sta aumentando sempre più. Ora questo è un modo di leggere le cose molto semplicistico. Intanto l'ape mellifera è un animale domestico o no? Non è un animale domestico, è un animale selvatico che l'uomo riesce ad allevare. Il branzino viene allevato ma nessuno si sogna di dire che il branzino è domestico. La pernice viene allevata ma nessuno si sogna di dire che la pernice è domestica. Ora ci sono degli animali allevati che in natura si estinguono. Ecco, il problema dell'ape mellifera è che il numero di colonie presenti nelle arnie degli apicoltori è oggi in Europa la maggior parte, mentre che hanno rischiato di estinguersi sono le colonie che vivono ancora allo stato selvaggio. Ma di questo vi parlerò tra un attimo. Ora parlare dei problemi di conservazione delle api, di tutte le api, è un problema veramente complesso perché quel fenomeno definito secondo me in maniera corretta come declino delle api è un fenomeno che si diciamo di pana in tantissime problematiche. Prima fra tutte è la modificazione degli habitat e della flora. Noi facciamo fatica ad accorgerci di quanto povero floristicamente sia oggi il nostro territorio finché non alleviamo delle api. E chi come me alleva le api da oltre 30 anni si rende conto che questa diversità floristica sta precipitando, sta precipitando, non ci sono quasi più fiori. Oggi tutti dicono bisogna piantare alberi, ma dove bisogna piantare gli alberi? Se oggi noi abbiamo un'emergenza ecologica è la perdita di ambienti prattivi. Alberi mancano in certe città, mancano nella pianura padana, ma se voi prendete una foto degli anni 50 di questi luoghi, delle colline dove abito io a Isola Vicentina eccetera, vediamo che gli alberi stanno rivestendo e anche qui purtroppo venendo su ho visto molti pascoli abbandonati, ricoperti dai rovi. A questo poi questa perdita di habitat è data da un lato dall'abbandono, dall'altro dall'incremento dell'attività umana, quindi le monoculture e con le monoculture i pesticidi. I pesticidi oggi sono un problema gravissimo, non solo perché il loro effetto negli ambienti agrari rende impossibile la sopravvivenza di una biodiversità anche funzionale all'agricoltura. Pensate che l'apicoltura oggi è l'alibi perché l'agricoltura possa usare i pesticidi. Se non ci fossero api allevate non sarebbe possibile usare tutti i pesticidi che noi usiamo perché oltre un terzo, c'è chi dice la metà di quello che mangiamo, dipende da un servizio di impollinazione. Oggi la maggior parte degli ambienti agrari sono sterili e quindi quella settimana, quei 15 giorni in cui la cultura fiorisce bisogna portare api da fuori. Poi ci sono le modificazioni climatiche che stanno devastando il rapporto di animali così strettamente legati a delle fioriture. E poi c'è anche un altro problema che è stato messo in luce recentemente e su cui oggi gli scienziati sono tutti concordi. Per le specie allevate di api c'è il problema di un inquinamento genetico. L'ape mellifera che è originariamente distribuita tra Europa, Africa e Medio Oriente è suddivisa in oltre 30 sottospecie. Bene, gli apicoltori europei e poi americani, sudamericani eccetera, hanno cominciato a tentare di risolvere i problemi derivanti dall'ambiente e dai pesticidi all'apicoltura selezionando api, spostando l'ape di qua, la metto di là eccetera. Questo sta disgregando la struttura genetica dell'ape mellifera. Quindi oggi si assiste a un'analisi di questi problemi della conservazione delle api che è da un lato poco chiara, superficiale, in alcuni casi anche schizofrenica. Perché noi abbiamo che gli ambientalisti naturalisti sono preoccupati delle 25.000 specie meno una, l'ape mellifera, e considerano l'ape mellifera un problema per le altre api perché ci sarebbe una competizione eccetera eccetera. Anche questo tema della competizione tra le api allevate e le api non allevate è un problema che va visto caso per caso. Negli Stati Uniti l'ape mellifera è stata portata nel 1600 e ha una competizione con le altre api di un certo tipo, ma negli ambienti in cui l'agricoltura intensiva ha bisogno di impollinazione non entra certamente in competizione con altre specie locali di api. Allora l'ape, vedete, è allo stesso tempo sia lupo che agnello. Perché è agnello in quanto è un animale allevato dall'uomo, funzionale all'uomo per le produzioni agricole, per la produzione di quegli straordinari prodotti che ci danno le api, il miele, il polline, la pappa reale, la propoli eccetera. Ma è anche lupo perché è una componente degli ecosistemi naturali. Allora lo sa bene chi studia i lupi e la difficile convivenza con la pastorizia o l'allevamento. Ecco, gestire, tutelare un animale che è allo stesso tempo funzionale per la nostra sopravvivenza ma che ha una sua identità biologica e un suo opposto nella natura è difficile se non si accetta che sono esattamente la stessa cosa. Che io non posso andare in una direzione per tutelare l'apicoltura o l'allevamento dei bombi che mi servono per produrre i pomodori e poi invece dall'altro lato nelle aree naturali, nelle riserve, tutelo le api in un'altra maniera. O lo si fa allo stesso modo o non si va da nessuna parte. Perché l'ape mellifera, una di queste 25.000 specie e delle oltre mille specie che vivono in Italia, non è una specie qualunque di queste api. È una specie che ha la capacità di impollinare miliardi di fiori in un anno. Perché le api di un alveare si spostano fino a 3 chilometri mediamente ma possono arrivare anche a 10-12 chilometri. E quindi un singolo alveare ha una capacità di impollinare una flora vastissima. Fino all'80% delle specie vegetali che necessitano impollinazione in tutto il mondo, anche in luoghi dove l'ape mellifera non c'è mai stata, possono essere impollinate dall'ape mellifera. Ecco che allora oggi si sta prestando attenzione alle colonie selvagge di ape mellifera perché non sono una pecora scappata dal gregge, una vacca scappata dalla stalla, ma sono un'entità naturale che vive nel suo ambiente. E queste api oggi anche gli apicoltori stanno capendo che sono una risorsa. Allora potremmo anche parlare di quanto l'apicoltura sia patrimonio della nostra cultura. L'apicoltura è antichissima, è testimoniata da migliaia di anni fa, ha contribuito alla scienza, allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e naturali e anche l'apicoltura va tutelata. Allora tutti vogliono salvare le api ma molto spesso queste azioni così dimostrative di grandi aziende, piccoli aziende, gruppi di ambientalisti. È un po' saltare sul carro del vincitore, è un greenwashing diciamo in cui spesso le cose proposte sono peggiori del problema stesso. Ad esempio c'è chi vende delle api come dei giocattoli didattici, no? Ecco che allora ti mandano a casa i bozzoletti dell'ape che magari proviene dalla Svizzera o dalla Germania e tu sei al ventesimo piano di un grattacielo a Milano e le metti lì e le vedi volare finché muoiono di fame queste. Ecco non è dignitoso, non è etico giocare con questi animali, con tutti gli animali. E il fatto poi che la tutela delle api sia invece qualcosa di complicato e di complesso è il motivo per cui io ho cercato di raccontarvi anche cosa sono queste api. Allora la tutela delle api si deve basare su tutta una serie di scelte che certamente coinvolgono la politica perché tutti parlano del problema dei pesticidi, poi se andiamo a Bruxelles ci sono più rappresentanti delle case di agrofarmaci che non parlamentari a tutelare diciamo così l'ambiente. E oggi noi siamo di fronte a un periodo elettorale, cerchiamo di capire chi pone i temi ambientali, chi pone i temi della conservazione e della biodiversità come programma elettorale perché questo riguarda tutti noi, ma riguarda tutti noi anche quello che si può fare quotidianamente per salvare le api. Allora ogni singolo cittadino oltre che la sua scelta elettorale e la sua delega alla classe politica può con le sue scelte quotidiane modificare certe cose. Quando io compro un cibo mi devo chiedere ma per produrre questo cibo quanti pesticidi sono stati utilizzati? Da quanto lontano viene questo prodotto? Quanto è stato pagato l'agricoltore che ha prodotto questo alimento? Il sottocosto è nemico della biodiversità ed è nemico della sostenibilità perché solo una retribuzione dignitosa può permettere all'agricoltura di andare sempre più avanti verso la sostenibilità. Ecco che allora le nostre scelte quotidiane, dove andiamo in ferie, che tipo di casa ci costruiamo, che tipo di veicolo guidiamo, sono scelte importanti anche come gestiamo il nostro giardino o come chiediamo alla nostra amministrazione comunale di gestire il giardino. Faccio un esempio banale e poi chiudo. Dietro a casa mia hanno fatto una pista ciclabile dove il comune ha chiesto a un gruppo di persone che si occupano della natura del nostro paese, dice cosa facciamo? Seminiamo un mescuglio di piante autoctone e tarifere e lasciamo quello che è fuori dalla pista ciclabile per la natura, per la biodiversità. Bene, quando c'è stata la fioritura dei papaveri, dei fiordalisi, tutti a fare i post, a farsi i selfie nel gruppo sei di isola vicentina, ma che belli sti fiori eccetera. Poi quando i fiori sono seccati, ma che schifo, il comune deve intervenire. Ora un fiore secco è perché si è trasformato in semi e quei semi in parte garantiranno la riproduzione della pianta, in parte nutriranno gli uccelli eccetera eccetera. No, il comune finché non ha tagliato sta roba la cittadinanza non è stata contenta. Allora anche noi, il nostro prato inglese, mettiamolo di plastica a sto punto, allora non dobbiamo neanche diserbarlo, perché il prato inglese sta alla biodiversità come la situazione attuale sta alla pace nel mondo, diciamo così. Quindi... Quindi ritornando alle api, l'importanza ulteriore delle api è che il meccanismo spesso sottovalutato dell'impollinazione ci dà una lezione straordinaria. È una cosa, sembra banale, l'impollinazione no, perché invece ci dice che due organismi completamente diversi hanno bisogno l'uno dell'altro per la propria sopravvivenza. Le api ci insegnano la legge fondamentale della natura che deve esserci complessità. Se non c'è complessità non c'è vita e questa la biodiversità. Allora bisogna che passiamo dal fatto che tutti vogliono salvare le api al fatto che ognuno di noi deve fare qualcosa per salvare le api. Grazie.